Musica Quest'anno a Marcianno della Chiana la prima volta della battaglia in tavola. Si tratta di un'iniziativa molto particolare, appunto una prima edizione all'interno di una rievocazione storica che ormai è tradizione. Sì, quest'anno non è una vera e propria rievocazione storica, è più una celebrazione della battaglia perché la rievocazione storica è a Pozzo della Chiana, la faremo biennale, quindi vi aspettiamo tutti per il 2019 intanto. La battaglia in tavola è soprattutto una sfida tra piatti, praticamente la gente potrà scegliere tra il piatto senese o il piatto fiorentino, voterà quello che gli piace di più e alla fine trarremo risultati e speriamo che quest'anno vinca Siena. È un contesto anche storico perché durante la scena narreremo gli eventi che hanno portato alla battaglia di Scannagallo, quindi sarà anche la narrazione romanzata della battaglia. Nel corso della serata ci sarà tanto intrattenimento? Sì, duelli, danze per celebrare la pace e poi alla fine la chiusura, un grande spettacolo di fuoco. Si tratta di un grande appuntamento che anima il borgo della Val di Chiana, anche in questo senso l'amministrazione comunale sta investendo molto, quindi promozione a 360 gradi. Sì, è un'iniziativa nuova rispetto a quelle che abbiamo fatto in passato, anche con Scannagallo, ci permette di promuovere il nostro territorio, il nostro centro storico in particolare. E quest'anno appunto anche una battaglia in tavola che vuole essere anche di buon auspicio rispetto a quello che succede nel mondo e quindi combattere solo a tavola e non magari al di fuori come è successo, come succede sempre. E questo anche un esercizzare diciamo le guerre e un ripercorrere quello che è la nostra storia, quindi con dei piatti anche che ricordano le nostre tradizioni, che ci riportano le nostre tradizioni culinarie e quindi una promozione anche enogastronomica del nostro territorio, oltre che culturale, rievocando la battaglia di Scannagallo. Lei si è occupato della preparazione di questi piatti senesi e fiorentini, quindi ci può dire qualcosa? Quali sono questi piatti? No, noi racconteremo sull'antipasti come si fa il prosciutto crudo con la scinta senese, come è il prosciutto crudo fiorentino che poi invade anche tutta la Valdichiana e un po' l'Aretino e poi ugualmente la differenza nel punto della soprassata sul crinale della Valdichiana, scendendo verso Siena si usa il finocchio selvatico, verso il Valdanno si usa il prezzemolo e poi ugualmente si ricorderà il crostino classico nostro nero come si fa in Valdichiana e un po' verso il senese e invece da parte fiorentina il ricordo va a un crostino con soltanto il centro dell'arte della fetta dell'arancio servito con l'olio e il sale che si è dimenticato. E poi sui primi avranno a mangiare da una parte i pici con il sugo di anatra, la pici alla nana e dall'altra parte invece si ricorda la pappa al pomodoro tipica fiorentina. E sui secondi ancora ricorderemo il coniglio disossato e ripieno al tartufo tipico delle terre senesi e dall'altra parte invece ha contropartita il petto d'anatra all'arancio che appunto sarebbe la famosa canardo orange che taluni pensano sia un piatto tra l'altro francese e invece è proprio Caterina dei Medici che vuole spronare le proprie cucine ad unire diciamo la tradizione toscana e fiorentina con quella siciliana. E poi si concluderà con i dolci con quindi un cantuccio e il vinsanto e dall'altra parte la zuppa in crese fiorentina. Quindi si tratta veramente di una battaglia, di una rievocazione storica della battaglia ma anche di una rievocazione storica delle tavola e quindi dei prodotti, dei cibi tipici. Esatto, esatto e lì i senesi potranno avere la rivincita, vediamo. Grazie a tutti.